L'acquario, luna al massimo splendore nel vostro segno, un aspetto con urano, nella vostra mente ci sono dei progetti, dei progetti, delle idee che voi vorreste realizzare, che potrete iniziare a mettere in pratica però tra qualche settimana, non adesso, perché questo non è il momento più adatto, è il momento invece, questo per valutare attentamente quelle idee che voi avete e iniziare a programmare la strategia giusta andando a valutare anche quelli che sono i problemi che vi troverete ad affrontare. Una luna bellissima chiaramente per i sentimenti e per l'amore può portare anche un'emozione improvvisa, una sorpresa che il vostro partner potrebbe farvi in questa giornata, sorpresa positiva chiaramente. Chiudiamo con il segno dei pesci, la luna in serata passa nel vostro segno.